Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Oggi andiamo a scoprire tutte quelle che sono le sfide della settimana 2 di questa stagione numero 8 Prima di cominciare diamo anche una rapida occhiata a quello che è lo shop Eccovelo qui ragazzi, abbiamo il set eterno conflitto, quindi la parte del bene e la parte del male Entrambi i set favolosi E sulla destra una skin che mi interessa parecchio, infiltratore Eccovelo qui ragazzi, questa è veramente bella Comunque, dato una rapida occhiata a quello che è lo shop di oggi Ritorniamo a quelle che sono le sfide di questa settimana 2 Partiamo subito con quella che è la prima sfida che ci dirà di infliggere dei danni ai nemici tramite l'utilizzo di un cannone dei pirati Questa ci darà 5 stelline del pass battaglia non appena sarà completata Il fatto è che la quantità dei danni che dovremmo andare ad effettuare contro i nemici utilizzando questi cannoni non è stata leccata Quindi ho ipotizzato che dovremmo effettuare almeno 100 di danno per completare questa prima missione Seconda sfida ragazzi, sempre per 5 stelline del pass battaglia dovremmo andare a recuperare vita tramite l'utilizzo di mele oppure medikit Sfida parecchio facile, molto probabilmente si andrà a dividere in due fasi La prima con le mele e la seconda con i medikit Al momento però come la prima sfida non si sa quanta vita dovremmo recuperare per completare questa seconda sfida Terza sfida ragazzi, la solita che si va a dividere in 5 fasi è che ci dice di atterrare in posti diversi in ogni singola partita Nella prima partita dovremo atterrare al quartiere Seconda sprofondo stantio Terza picco polare Quarta spiaggia snob E quinta palmetto paradisiaco Per questa sfida una volta completata otterremo ben 10 stelle del pass battaglia Completate quelle che sono le sfide gratuite ragazzi passiamo alle sfide per i possessori di questo pass battaglia La prima non che quarta ci dice di aprire forzieri del tesoro in diversi luoghi indicati in una sola partita Non si sa però quanti forzieri dovremmo andare ad aprire per andare a completarla Dovrebbe essere un numero alquanto basso dato che si tratta di forzieri in diversi luoghi indicati e soprattutto in una singola partita Quindi per questo tipo di sfida ragazzi ci vuole un po' di pazienza per andare a completarla Quinta sfida elimina nemici a borgo bislacco oppure a montagnole maledette Molto probabilmente saranno 3 le kill da andare ad effettuare Il tutto per i 5 stelline del pass battaglia Sesta challenge ragazzi alquanto strana Infliggi danni ai nemici che si trovano in prossimità degli airdrop Quindi per questa qui vi consiglio di utilizzare la modalità 50 contro 50 orissa squadre quello che sia Di andare nel cerchio della safe perché quella lì sarà la zona in cui cadranno tantissimi airdrop E di killare o quantomeno infliggere danni ai nemici in prossimità di questi airdrop che stanno scendendo sulla mappa Non si sa quanti danni dovremmo andare ad effettuare per il momento Lo so su questa settimana 2 ragazzi c'è un grandissimo punto interrogativo Purtroppo non tutti i dati sono stati liccati Quindi prendete questo video come punto di riferimento almeno per quanto riguarda le singole sfide Settima sfida nonché ultima ragazzi Visita i punti più lontani della zona nord, ovest, est e sud della mappa Per questa sfida ovviamente uscirà un altro video sul canale alle 13 in cui vi andrò ad aiutare nel completamento di quest'ultima Sono stati aggiunti dei cartelli sparsi in ogni lato della mappa E nel video vi andrò ad indicare ogni singola zona Io spero che questo video brevissimo sulla settimana 2 della stagione 8 vi sia stato d'aiuto Se così fosse vi invito a lasciare un bel like, condividerlo con tutti i vostri amici Fatevi sapere quali sono le sfide di questa settimana Noi ci becchiamo nel prossimo video guida Vi ricordo che andrò a caricare anche il video che riguarderà la posizione dello stagione segreto di questa settimana Un salutone da Martex Ciao brothers